Chi non conosce Sergio Marchionne, famosissimo per essere stato negli ultimi anni amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler, amministratore delegato dal 2004, ha risollevato il gruppo facendolo passare da una situazione di crisi nera a una situazione di sostanziale successo con la fusione con Chrysler. I pochi minuti che ascoltiamo qui sono tratti da un intervento molto più lungo e articolato che Sergio Marchionne ha fatto presso l'Università Bocconi di Milano nel 2013, intervento nel quale ha un po' raccontato i suoi primi anni alla guida di Fiat, Fiat Chrysler e in particolare ci sono dei passaggi che sono molto interessanti per quanto riguarda la nostra tematica del giusto mindset da parte del leader. In particolare questo è il primo passaggio che sentiamo, è tratto dalla parte conclusiva del discorso introduttivo fatto da Marchionne che mi sembra quasi una sorta di manifesto del mindset di successo, del mindset dinamico. Ascoltiamolo. Prima di aprire il dibattito a rispondere alle vostre domande vorrei aggiungere un'ultima riflessione. I confini di cui si parla in questo workshop è che tutti noi come aziende e come individui abbiamo bisogno di superare non sono soltanto quelli fisici, sono molto spesso confini mentali, barriere che ci costruiamo da soli e si rafforzano nel tempo. Essere veramente liberi significa anche sapere che in ogni momento è possibile abbracciare una nuova direzione e un nuovo obiettivo. Significa non permettere che le scelte fatte ad un certo punto della vita chiudono fuori tutto il resto. Bisogna pensare che le scelte fatte non sono definitive, no? Che cosa c'è di più dinamico di questa affermazione? Ebbene, in questo Marchionne è sicuramente il portabandiere del mindset dinamico. Se guardo indietro alle scelte che ho fatto io nel mio percorso di studi e di lavoro, il migliore aggettivo che mi viene in mente è caotico. Quando ho iniziato l'università in Canada ho scelto filosofia, l'ho fatto perché sentivo che in quel momento era una cosa molto importante per me e poi ho continuato studiando tutt'altro e ho fatto prima il commercialista e poi l'avvocato e ho seguito tante altre strade passando per la finanza prima di arrivare ad occuparmi di imballaggi, poi di alluminio, di chimica, di biotecnologia, di servizi e oggi di automobili. Non so se la filosofia mi abbia reso allora un avvocato migliore o mi renda oggi un amministratore delegato migliore, ma mi ha aperto gli occhi e ha aperto la mia mente ad alto. Nel cammino di ognuno di noi ci sono state tante porte e dietro di esse ci sono tante cose che possono cambiare noi stessi e la nostra vita. Ma le può riconoscere solo chi ha abbracciato l'abitudine di apprezzare tutto ciò che può capitare. Chi ha mantenuto una mente aperta al cambiamento ha la voglia di conoscere e di mettersi alla prova. Chi ha mantenuto la mente aperta al cambiamento ha avuto la capacità di evolversi e di aprirsi al cambiamento. Questo è proprio un classico segnale di un mindset dinamico che è esattamente l'opposto di un mindset statico e di chi sostiene invece io sono così e non posso cambiare. Ebbene in questo caso Marchionne è il porta bandiera di un mindset dinamico e anche la citazione che adesso fa ne è una chiara testimonianza. Tra i racconti che ho letto da ragazzo ne ricordo uno molto divertente ma che fa anche riflettere sul modo di affrontare la vita. Si tratta di Curious Case on Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald. E c'è un passaggio in cui il vecchio Benjamin ormai diventato bambino dice, for what it's worth it's never too late or in my case too early to be whoever you want to be. There's no time limit, stop whenever you want. You can change or stay the same. There are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I hope you make the best of it and I hope you see things that startle you. I hope you feel things that you never felt before. I hope you meet people with a different point of view. I hope you live a life you're proud of and if you find that you're not, I hope you have the strength to start all over again. E questo l'augurio che insieme il messaggio di speranza che vorrei lasciarvi oggi. Abbiate sempre il coraggio di cambiare voi stessi, cambiare idea, approccio e punto di vista. Perché anche l'unico modo di cambiare le cose che non vanno è di rendere la vostra vita migliore. Grazie a tutti. Voglio ora concludere questa citazione da Sergio Marchionne in tema di mindset riportando la parte finale del question time. Questa parte viene di solito citata per altri motivi perché c'è la famosa affermazione di Marchionne in vacanza da cosa che è stata citata anche quest'anno e il racconto di come quando nel primo anno arrivò a Torino negli stabilimenti Fiat trovò tutto chiuso e chiese dove sono tutti e la risposta fu sono in vacanza e Marchionne reagì con un in vacanza da cosa che era un in vacanza da cosa ironico visto che l'azienda in quel momento perdeva 5 milioni di euro al giorno. Ma non cito Marchionne in questo caso per questo motivo ma per il passaggio subito successivo che apre secondo me il discorso sul mindset ad un ragionamento più ampio sul sistema paese. Sentiamolo. Non è assolutamente vero, il mondo se ne frega. Se ne frega che siamo belli, se ne fregano il tempo che abbiamo belle macchine, se ne fregano il fatto che siamo capaci di cantare. Sono tutte cose che a livello internazionale non contano niente. Io ogni volta che vado in giro con gli americani mi parlano e mi dicevano, diciamo, we just love Italy. Diciamo, we love to come there on vacation. Yeah, would you invest in a country? Oh no, no, we won't do. Nel discorso con la Opel mi sono incontrato con il capo delle IG Metall, un certo tizio che si chiamava Franz, che odiava la Fiat per ragioni storiche ai tempi dell'alleanza con la General Motors. Me lo ricordo, lo incontrai a Berlino, entrò nell'ufficio, primi cinque minuti mi spiegò in dettaglio che lui era un grandissimo fan dell'Italia, che si era comprato un rustico nelle Marche, che ci andava ogni anno con la famiglia d'estate. Io ho ascoltato, incoraggiato da questo tipo di apertura verso il paese, verso gli italiani, e per la prossima ora, dopo che abbiamo discusso il rustico, mi ha fatto un tombino dicendo che noi eravamo la gente più incompetente, più inaffidabile. Sono uscito da quella riunione completamente distrutto, con un'opinione così negativa del paese che lo sia. Dobbiamo rompere, dobbiamo smettere di vergognarci di essere italiani. È l'unico modo per farlo, questo è per diventare credibili e affidabili a quel livello là. Il fatto che noi qui dentro pensiamo di essere veramente intelligenti non vale un caraco. Andiamoci a misurarci di fuori, andiamo a concorrere, andiamo a competere, ci mettiamo sullo stesso tipo di tappeto dove stanno gli altri. E poi vediamo un po' se stiamo capaci o meno. Se c'è un messaggio che bisogna portare a casa continuamente è il fatto che la nostra importanza come business, come eccetera, viene misurata a livello globale e non a livello nazionale. Questo qua non vale più niente. Il fatto che noi siamo bravi in Italia non significa più niente. Ora è chiaro che Marchionne qui fa un discorso economico, diciamo in parte politico, geopolitico eccetera, ma interessa relativamente. Quello che è interessante è proprio la sottolineatura di questo aspetto, cioè se tu sei convinto che la tua intelligenza sia infallibile, fondamentalmente hai un mindset di tipo statico, no? Cioè ti consideri tale con un'intelligenza innata, che è un po' il rischio, no? Lui dice del sistema paese, no? Che ha fatto cose belle in passato ma che adesso rischia di non farle più, per esempio, no? Se invece pensi che sei in continua evoluzione e che non hai raggiunto nulla, perché comunque tutto può modificarsi e cambiare, allora sei nell'ambito di un mindset dinamico che sicuramente ti porterà sempre a crescere. Ecco, questo è un po' il messaggio finale che traggo da Sergio Marchionne. Concludo ricordando, come sempre, che su mba.mindon.it è possibile usufruire di un corso specifico per conoscere ed apprendere il mindset di sviluppo, il mindset dinamico. A presto!